Mendozio è un divano pensato per chi ama un'estetica essenziale e pulita, ma non vuole rinunciare alla massima comodità e funzionalità. Il modello è caratterizzato da un sobrio piede in legno color venghe, sormontato da un bracciolo con cuscino in appoggio inserito tra la struttura del bracciolo stesso e il cuscino seduta. Lo schienale è dotato di un pratico meccanismo con cricchetto che consente di personalizzare il comfort del poggiatesta. Ma la vera peculiarità di Mendozio è al suo interno. Un innovativo meccanismo scorrevole consente di estrarre un piano da usare come puff per appoggiare le gambe. Mendozio è fatto a mano in Italia dai nostri esperti artigiani, prevede 10 anni di garanzia sulla struttura in legno, è completamente sfoderabile e il suo rivestimento da scedere tra oltre 311 tessuti è lavabile. Scopri tutte le versioni e le misure disponibili di Mendozio qui sul sito o provalo nel negozio poltrone sofà più vicino a te. Scopri tutte le versioni e le misure disponibili di Mendozio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.